Già noi eravamo penalizzati prima con le chiusure forzate. Da ieri si è dimostrato che il Green Pass ancora ci penalizza. Una volta ancora la ristorazione cade nel labirinto della burocrazia italiana. L'app del Green Pass ieri non ha funzionato a livello nazionale, come le immuni precedentemente. Io non sono autorizzato, almeno credo, a chiedere i dati personali delle persone, perché non sono un funzionario pubblico. La gente si rifiuta a stare fuori perché vorrebbe stare all'aria condizionata, perché fa troppo caldo. Io personalmente faccio sedere alla gente dove si vuole accomodare. Dentro o fuori io non chiedo il Green Pass. Consapevole che rischia una multa? Sì, sono consapevolissimo, però se io devo lavorare e lo Stato mi chiede di pagare le tasse, mi deve dare la possibilità di incassare. Altrimenti lo Stato ci perde e ci perdiamo noi.